La nostra azienda agricola nasce dal desiderio di trarre dalla terra i suoi frutti nel modo più sostenibile e armonioso possibile. Crediamo che tecniche agronomiche rispettose del suolo, un uso consapevole dell'acqua, la ricostruzione di un ambiente che contrasti naturalmente i patogeni e i parassiti, il compostaggio, siano le scelte migliori. L'azienda agricola è stata impostata seguendo i principi della permacultura e quindi gli alberi da frutta convivono con gli arbusti da bacca, le ortaggi e le erbe aromatiche, in una consociazione che crea un vantaggio reciproco oltre che una gioia della vista. È stato poi naturale decidere di adottare la certificazione biologica dei nostri prodotti. Produrre, secondo questi principi, comporta dei benefici non solo per i consumatori, ma anche per chi lavora all'interno dell'azienda come benessere fisico e psichico, da condividere con attività di laboratorio, gioco e lezioni. Inoltre si sposa perfettamente con il nostro desiderio di ripensare l'agricoltura come un futuro sostenibile per i giovani. La coltivazione di ortaggi e frutta, immersa in un contesto di forte biodiversità, è attento all'utilizzo del suolo, essenziale per far arrivare sulla tavola delle famiglie un prodotto salutare, rendendoci tutti consapevoli dei vantaggi derivanti dal coltivare in armonia con la natura. In azienda agricola, le colture convivono con la flora spontanea e gli arbusti che favoriscono la presenza di api e farfalle. Abbiamo impiantato più di 200 varietà di alberi da frutto, mele, ciliegie, pere, pesche, albicocche, susini, privilegiando le specie antiche autoctone e tante varietà di piccoli frutti, lamponi, uva spina, ribes, mori e ibridi di mora.